ciao a tutte e bentornate nel mio canale vi lascio un velocissimo video svuota la spesa su degli articoli che ho acquistato al simply sperando ovviamente come sempre di esservi utile di darvi degli spunti su dei prodotti nuovi da acquistare quindi vi mando un bacio grosso e vi aspetto al prossimo video ciao allora ecco qui la piccola spesina di cui vi parlavo ora vi faccio vedere nel dettaglio cosa ho preso ho preso questo zucchero in granella della pane angeli che serve appunto per decorare qui fa vedere le torte e le ho pagate erano in offerta 39 centesimi invece che 79 centesimi poi c'era il volantino tutto un euro per cui ho trovato molti prodotti a un euro tra cui 90 grammi di grana padano riserva ferrari e l'ho pagato un euro questi tre succhi della zueg alla pera e li ho pagati un euro poi a un euro ho preso le crostatine al cacao del mulino bianco e sempre a un euro ho preso le macine della mulino bianco a un euro poi c'era anche la polpa finissima dell'ortolina che l'avevo già provata è molto buona e quindi ho trovato questa qui a un euro e l'ho presa subito e poi sempre a un euro ho trovato le spinacine queste qui di pollo e tacchino quindi ho preso ne ho prese due confezioni un euro un euro e queste erano le cose appunto a un euro poi ho preso la panna della sterile garda che l'avevo già provata e mi piace e l'ho pagata a 91 centesimi questa non era in offerta il prezzo solito ho trovato anche questa confezione della pane angeli che comprende due confezioni di lievito da tre bustine per cui un totale di sei bustine e una busta di zucchero a velo mi sembra che sia da 125 grammi lo zucchero a velo e solitamente l'avevo pagata un euro e 99 l'ho trovata in offerta a un euro un euro e qualcosa in un euro e 04 forse quindi l'ho presa subito perché appunto ci sono sei bustine di lievito più una busta grande di zucchero a velo poi vabbè ho preso una confezione di sofficette di prosciutto cotto da 80 grammi ma questa l'ho pagata non era in offerta perciò l'ho pagata un euro e 69 ho preso invece in offerta la chiappa colore della gray quello 16 più 4 fogli in omaggio io l'uso molto devo dire che ho provato anche a utilizzare quello dell'euro spin quindi diciamo un prodotto non di marca e fa il suo lavoro anche quello però siccome ho trovato in offerta questo qui di marca l'ho preso e c'era la nuova confezione che era il brilla colore dove c'è scritto che ravviva anche l'intensità dei colori ma lo proveremo comunque più che altro è appunto quando mi capita di mettere colori magari più accesi con colori un pochettino più più delicati onde evitare di fare qualche guaio con la lavatrice e rimanendo in tema lavatrice ho trovato il mio solito biopresso anche se non è il mio solito perché ho preso questa nuova formulazione stiro facile avevo visto anche la pubblicità in televisione l'ho preso perché era in offerta l'ho pagato 2 euro e 49 c'era anche quello normale però ho detto vabbè provo questo e quindi vedremo se veramente sarà stiro facile ma dubito che avrò meno difficoltà a stirare poi ho trovato devo dire che al simpi trovo sempre molti vini in offerta ho preso questo montepulciano d'abruzzo denominazione di origine protetta era in offerta al 50 per cento perciò invece di pagarlo 4 euro l'ho pagato 1 euro e 99 quindi ne ho prese due bottiglie e come ultima cosa vi faccio vedere le capsule del caffè allora queste capsule sono capsule nespresso compatibili o una macchinetta della nespresso da tanti anni e allora ovviamente sarei bugiarda dire che le capsule originali non siano le migliori perché comunque si vede la differenza sia nella qualità del caffè sia proprio anche la macchinetta quando le si inserisce la capsula fa meno fatica a prenderla proprio però tra le varie compatibili che ho utilizzato che ho provato queste qui sono molto buone e costano anche pochissimo perché le pago 1 euro e 99 10 capsule e le trovo ovviamente solo al simpli perciò niente che dirvi questa piccola spesina è terminata magari vi farò presto uno svuota la spesa un pochino più più elaborato con un po più di prodotti alla prossima ciao